Fotografie ma anche alcuni strumenti utilizzati per i primi dischi e rari filmati degli esordi. Londra ospita la prima mostra interamente dedicata agli oasis. L'apertura è l'11 aprile, data scelta non a caso. Quello stesso giorno, vent'anni fa, usciva infatti Supersonic, singolo di debutto della band. Chasing the Sun, Oasis 1993-1997, il titolo della mostra, che resterà a London Newcastle Project Space solo per una decina di giorni fino al 22 aprile.